Grazie a tutti. Veronica De Martin Pinter e Marlene De Martin Pinter che gareggeranno per lui. Seconda edizione di questa gara che costituisce un banco di prova, anche se un po' lontano rispetto all'appuntamento più importante, parliamo dei mondiali di Holmen-Cohlen dal 26 febbraio al 6 marzo. Tuttavia è una vetrina alla quale si affacciano dei pretendenti al podio iridato, a cominciare da Pietro Piller-Kotler, Florian Kostner e Christian Zorzi, senza dimenticare Bruno e Ivan De Bertolis, i fratelli trentini del Primiero. 30 chilometri in tecnica classica, temperatura piuttosto bassa, neve preparata ottimamente, si va quindi sui binari, operazioni di punzonatura per i 300 partenti. Parliamo di tutto questo seguendo le immagini insieme a voi, cari telespettatori, con Moreno Giacomelli della polisportiva Molina di Fiemme che è stato uno dei protagonisti di vertice di questa gara. C'è spazio anche naturalmente per il folklore, per questi testimoni di un'antica maniera di andare con gli sci da fondo. Moreno Giacomelli, boscaiolo della Valle di Fiemme che però dedica forse in questa stagione più tempo agli sci che non al taglio della legna. Ciao Moreno. Ciao a tutti i telespettatori, sì, durante l'inverno mi dedico alla pratica dello sci di fondo. Ecco qui, l'inquadratura anche per te. Sì, quest'anno ho cominciato abbastanza bene la stagione e sono contento così, spero di continuarla così fino alla Vasa Lopet che è l'ultima gara della mia stagione. Le inquadrature ci hanno mostrato le bellissime cime dolomitiche del gruppo della Popera con Cima 11, Cima Bagni, Croda Rossa, Passo della Sentinella, tutti toponimi noti e apprezzati da chi va in montagna. Ma parlaci un po' di questa pista, allora Moreno. Abbiamo detto tecnica classica, che tipo di sci, che tipo di sciolinatura? Sì, tecnica classica è una gara che si snoda su un percorso di due giri da 15 chilometri. Prima parte, i primi 5-6 chilometri tutti di salita con strapetti un po' più duri che dopo spianano un po'. Si parte praticamente dal centro del paese quasi, da Padula? Sì, si parte qua nei prati del paese e la riva è anche dall'altra parte. Si gira sempre, il transito della riva è sempre là nei prati vicino al paese. Due giri da 15 chilometri, tratti duri? Eh, i primi 5-6 chilometri sono falso piano in salita con dei strapetti più duri. Poi si arriva su nel prato dove mi sembra che ci sono le terve, lì si fa due o tre giri là nel prato e poi rientro e quasi tutto falso piano in discesa. Sì, bisogna si veloce a scendere. Ecco il lancio. Allora, la neve come si è presentata così al primo assaggio in queste prime decine di metri? Eh, la pista era battuta bene, i binari anche hanno tenuto per tutta la gara, visto che abbiamo fatto due giri, anche noi siamo ripassati sui stessi binari di prima, però la pista ha tenuto bene e sì, è stata anche una gara abbastanza veloce, la neve, no no, niente da che dire, la pista era battuta perfettamente. 400 concorrenti, se la neve tiene non sono tantissimi per una gara in tecnica classica, come questa è la seconda edizione della Comelgo Lopet, a differenza di una gara in tecnica libera dove gli sci macinano un po' più a fondo la pista. Sì, è vero, però anche nelle sedite più ripide dove la sciolina non tiene, se la neve tiene ti resta bella, se no si sfarina anche nel classico. E quindi si affonda fino alla caviglia. Esatto. Allora lì la gara diventa veramente faticosa perché si va su passo passo, lo sci non può scivolare. Allora, seguiamo queste immagini, siamo ancora nelle fasi iniziali, abbiamo visto che i migliori hanno già cominciato a fare la loro andatura, la differenza è già tra i primi e gli ultimi, già di qualche minuto e siamo ancora nel primo chilometro. Al comando c'è Florian Kostner, seguito da Cristian Zorzi, da Ceol, da Simone Paredi del Centro Sportivo Esercito. Ricordiamo a questo punto l'albo d'oro della prima edizione. Florian Kostner per il Centro Sportivo Carabinieri è salito, come si dice sul gradino più alto del podio, lasciando ai commilitoni Fabio Santos e Bruno Carrara il secondo e il terzo posto. Tempo della prima edizione per gli uomini 1 ora 07 e 3 secondi. In campo femminile Veronica De Martin Pinter, per i colori del gruppo sportivo Arto, l'anno scorso in 1 ora 18 e 28 davanti a Eugenia Bicciugova, l'atleta campionessa russa, naturalizzata e italiana, che gareggia ancora, nonostante abbia doppiato il traguardo dei 50 anni. Pietro Piller, anzi Eugenia Bicciugova al secondo posto, Marlene De Martin dell'Unione Sportiva Val Padova al terzo posto, 1 ora 18 e 28 il tempo di Veronica De Martin. Questi sono i riferimenti cronometrici. Ecco intanto Florian Kostner che fa l'andatura. Commenta un po' questo suo gesto tecnico, è un bel passo alternato. Eh sì, è il suo lavoro e sicuramente lo interpretano alla migliore maniera possibile. È sempre abbastanza raro vedere un passo alternato nel moderno scid di fondo, diciamo ancora tecnica classica ma non è più così, c'è sempre più una scivolata spinta come quella che vediamo adesso messa in atto da Cristian Zorzi. La scivolata spinta che è stata introdotta massivamente, massicciamente dai norvegesi negli anni 90 che adesso si usa sempre più. Sì, la scivolata spinta, sì, più che altro è stata introdotta nella prima edizione della Marcia Longa tecnica classica dai fratelli Oakland. Parliamo 1991. Che hanno fatto sulla salita della cascata tutta di braccia. Anders, Oakland, entrambi i vincitori di due, Jorgen e Anders, i due fratelli che hanno vinto entrambi due edizioni della Marcia Longa di Fiemme e di Fassa. In effetti ha sorpreso nella prima vittoria di Jorgen Oakland l'interpretazione della sua salita di Molina, il classico finale della Marcia Longa, fatta tutta a spinta senza sciolina di tenuta sotto la soletta. Sì, esatto. Ho parlato anche con Zanetelo così, non pensavano neanche loro che si potesse arrivare a finire la Marcia Longa in questa maniera, però hanno capito anche loro adesso che se si vuole puntare in alto non si può fermarsi a sciolinare, bisogna arrivare là e andare di braccia. C'è Bruno De Bertolis adesso che fa l'andatura seguito da Cristian Zorzi. Bruno De Bertolis, Cristian Zorzi, poi alle spalle dei due Paredi, Ivan De Bertolis e Pietro Piller-Kotler che in questa fase si tiene un po' sulle code degli altri. Lascia fare. È sempre meglio lasciare fare gli altri per risparmiare il più possibile la fatica per le fasi finali. Pietro Piller-Kotler alla ricerca della condizione appunto in vista dei mondiali Olmen-Kollen e così anche per Cristian Zorzi la cui partecipazione è tutt'altro che decisa a questo punto della stagione. Cristian Zorzi che continua comunque a rimettersi in gioco. Se Cristian Zorzi lo portano vedrai che sicuramente combina qualcosa perché non è mai arrivato a casa a mani vuote. Con numero uno abbiamo visto Florian Kostner, il pettorale numero uno spetta al vincitore dell'edizione precedente così è stato come abbiamo detto per Florian Kostner e Veronica De Martín. Continuiamo a seguire la gara maschile. Adesso l'andatura si è fatta un po' più sostenuta, tant'è vero che vedete i concorrenti con il numero 21 e con il numero otto perdere qualche metro. Sì, qua siamo quasi... La fila molto allungata a questo punto. Qui siamo quasi in cima al giro di Boa. Quest'anno hanno allungato anche la pista facendola passare in un sentiero tra il bosco. un pezzo a me mi è piaciuto tantissimo, un po' magari agli altri non so. Però una pista, io l'ho detto a Roberto De Zolt, stile anni 80 perché era una pista stretta tra il bosco. Proprio un bel pezzo l'hanno tirato fuori. Roberto De Zolt che è proprio qui da queste parti di Padola, è casa sua questa. Roberto De Zolt ex Fiamme Gialle adesso con i colori dell'Artman. Gareggia e continua a gareggiare ad alto livello nonostante abbia intrapreso altre attività professionali. Tratto in discesa, Bruno e Cristian Zorzi in primo piano. Panoramica, dietro i primi sono passati anche gli amatori. Abbiamo visto con il numero 11 Marco Crestani del gruppo sportivo Asiago, con il numero 3 Manuel Andrich del gruppo sportivo Val Biois. Pietro Piller-Cotter ha costretto all'inseguimento Cristian Zorzi, Bruno De Bertolis, Florian Kostner, Simone Paredi, Ivan De Bertolis. Entrambi Fiamme Gialle, ex Fiamme Gialle e i due fratelli De Bertolis, con i colori della Hartman. Giro di Boa, allora rifornimento, siamo quasi al rifornimento. Il primo sarà Pietro Piller-Cotter a ricevere il sostegno dell'assistenza. Salta il turno invece Cristian Zorzi e dietro tutti gli altri, andatura ancora molto elevata, nonostante questa piccola interruzione di ritmo per assumere qualche elemento di integrazione alla fatica, all'energia che si sta spendendo. Con che cosa vi alimentate a questo punto della gara? Io praticamente ogni 20-25 minuti di gara bisognerebbe assumere dei sali così da non restare disidratati. Anch'io qua sto prendendo rifornimento dal mio amico Renzo. Preziosissimo l'aiuto del bordopista. Sì, in gare lunghe se sei davanti devi avere rifornimento perché se collaboraccia dopo ti stacchi dal gruppetto e ti stacchi due o tre volte dopo a continuare a recuperare e dopo ti stacchi alla fine. E ogni concorrente ha il suo punto di riferimento lungo il percorso. Abbiamo visto che quello di Cristian Zorzi, di Paredi, di De Bertolis, di Matteo Ceol è stato un po' ritardato rispetto a quello di Pietro Piller-Cotter. Adesso si è formata questa pattuglia in testa alla gara. Con il numero 48 è Paredi a fare l'andatura, a guidare il gruppo. Sì, con l'andatura è calata tanto che noi da dietro siamo stati capaci quasi di ricucire lo strappo che avevano fatto in salita. Però dopo al passaggio nel stadio un'altra volta... Ecco, adesso il gruppo di testa sta rientrando a Padola per il completamento del primo giro. I primi 15 chilometri si attraversa questo torrente sul Ponticello. Tutti di conserva, sci più o meno analoghi quanto a velocità. Vediamo che le distanze fra i concorrenti non cambiano in discesa. Questo vuol dire che gli sci sono stati preparati correttamente per tutti. Esatto, questi qua davanti hanno sempre i sci preparati... È difficile vedere... Grosse differenze. Esatto, qui davanti hanno tutti i loro schimè anche... Ecco, ormai gli schimè non sbagliano più. Ci sono talmente tanti dati sulla neve, sui cristalli e soprattutto il computer, l'uso del computer che aiuta molto nella chimica dello sci di fondo. Sì, esatto, se sbagliano è proprio perché vogliono rischiare qualcosa proprio di arduo proprio. Se no, se vuoi restare un po' tranquillo è difficile proprio che sbagli alla grande. Però tutto sommato gli esperimenti è meglio fare in allenamento. Eh, sono quasi meglio. Simone Paredi allora a fare l'andatura con il numero 28, dietro Pietro Piller-Cotterer col 29, Bruno De Bertoli con il numero 22, Florian Kostner con il numero 1, Cristian Zorzi con il numero 44, Matteo Ceol con il numero 8, Ivan De Bertolis con il numero 21. A questo punto i due fratelli De Bertolis possono fare in qualche modo gioco di squadra? Sì, si possono aiutare anche se nulla togliere a fratelli De Bertolis davanti. C'è gente che sicuramente può andare più forte di loro. Da Piller-Cotterer, Zorzi e Kostner insomma sono brutti clienti. Esatto, per chi vuole. Esatto, per chi vuole. Beh, sono gente che va in Coppa del Mondo e allora... Alle spalle dei Battistrada che vediamo transitare nuovamente davanti all'obiettivo della telecamera. Un quartetto con Crestani numero 11, Andricche con il numero 3, Stefano De Martín Pinter con il numero 16, Valentino De Martín Bianco con il numero 15. Ma sono sempre questi primi sette concorrenti a guidare le danze.